E' un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra, da un lato il sindaco uscente Mario Pupillo che dalla sua parte può contare sul Partito Democratico e quattro liste a sostegno e dall'altro Enrico D'Amico con la sua lista civica Nuova Lanciano appoggiato da Forza Italia, noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Unione di Centro e altre tre liste civiche. Un dato che apre già lo scenario del ballottaggio con il capitolo Apparentamenti e infatti Tonia Paolucci con la sua lista civica, oltre a Casa Pound e altre due liste, a diventare il fondamentale ago della bilancia con il suo 22%. Boccia il centrosinistra perché non ci dimentichiamo che cinque anni fa l'amministrazione attualmente in carica aveva riportato il 60%, oggi registra poco, intorno al 39%, e quindi è chiara la volontà dei lancianisti di cambiare amministrazione. Si parlerà anche con la Paolucci? Sicuramente, ripeto, adesso ragioniamo sui numeri e poi si faranno valutazioni. Intanto io non penso che la Paolucci si possa annoverare nel centrodestra, ha avuto un buonissimo risultato e una lista civica che si pone al di là dei partiti, ha presentato punti programmatici anche importanti, per cui mi auguro che si apra un confronto per vedere un po' come poter catturare questo elettorato, che è un elettorato molto sensibile, con un senso civico molto alto. Mi fa piacere che ora i due si sono resi conto di questo risultato perché durante la campagna elettorale dicevano ben altro, il contrario. Veramente ci sono delle ruggini con Forza Italia e con il centrodestra, quindi è impossibile pensare a un apparentamento? No, no, qua non parliamo di ruggini. Il problema è praticamente nato che noi abbiamo fatto una scelta ben precisa che viene da lontano, diciamo a lontano 2012 quando abbiamo iniziato a mettere su questo gruppo civico e noi ci siamo posti come alternativa e come cambiamento. Una menzione poi va fatta sulla lentezza dello scrutinio che ha attirato l'attenzione di tutti, montando anche diverse polemiche. L'introduzione della doppia preferenza di genere ha causato non pochi problemi per gli elettori che hanno spesso espresso un voto nullo e dall'altra gli scrutinatori che hanno in alcuni casi dovuto ricontare le schede per errata interpretazione. Alle 8 della mattina solo 11 seggi su 44 erano stati scrutinati ufficialmente. Le difficoltà sono state appunto questo voto di genere, ci sono state tantissime schede nulle, comunque i presidenti si trovano in difficoltà nello scrutinare e speriamo che riusciamo, siamo ad 11 soltanto e sono le 7 di mattina, siamo qui da ieri. Abbiamo mandato anche i nostri colleghi qui del comune a poter supportare i presidenti, gli scrutatori, qualcuno si è sentito male.